Senti, ascolta questa. Un weekend bestiale. Sai che abbiamo fatto? Troppo es... es... Tremo? Bici, capisci? Una bici? No, no, no. Un MBK. L'MBK. Quattro ore così. Zaino in spalla. Pesantissimo. Arriviamo in cima. Enorme. Ti senti aspirare. Il base jam della morte. Abbiamo rischiato la morte. Io... io bisogno... bisogno di andare al limite, vedi? Anche oltre. Tac, tac, tac. Sentire l'estremo, vedi? Ho bisogno di mettermi in pericolo, no? Tu cosa fai per l'adrenalina? Per le vibrazioni! Prova questo. Ti calma. Ah sì? Sì, calma. Le gruyere AOC. La vera natura. Ti calma. Resta naturale. Sì, sì. Resto qua. A prezzerumpo. Grazie.